Eccomi, ciao a tutti, buon sabato e bentornati sul mio canale Disordine Creativo. Allora, innanzitutto spero che stiate tutti bene in questo periodo veramente un po' particolare e vorrei fare una premessa proprio all'inizio di questo video perché ieri, non a me personalmente, ma in questi giorni sono girate un po' di polemiche su chi faceva video di Youtube oppure dei piccoli video su Instagram dove non pubblicizzava. Come dire, dove si parlava di cose divertenti, di cosmesi piuttosto che di lana, piuttosto che di altre cose dicendo che insomma in un momento storico come questo non si può pensare di avere la voglia di guardare e di fare dei video di divertimento. E' venuto fuori un po' in tanti campi, tanto che una profumeria molto famosa, un sito web che si chiama Pinalli, ha proprio messo una sua dichiarazione che io condivido. Mi piaceva fare veramente un piccolo pensiero su questa cosa. Tutti noi in questi anni abbiamo avuto momenti di tristezza, momenti di preoccupazione per una cosa diversa di quella che adesso sta succedendo. Non è l'unica guerra di questi anni, ci sono guerre che sono a noi totalmente sconosciute e non ce ne preoccupiamo neanche. Io in primis alcune proprio non le conosciamo, quindi mi sembra veramente un po' ipocrita dire ma in questo momento storico così particolare ma come ti permetti di fare un video dove tu ti diverti, dove fai vedere delle cose frivole. Non è certo non facendo queste cose che si combatte il potere e tutto quello che sta succedendo in questi giorni. Io penso che se davvero fossimo tutti così non ci dovrebbero essere più i social, non ci dovrebbe essere più la televisione perché anche guardare una serie tv mi fa divertire. Non posso flagellarmi tutti i giorni e quindi io penso che ci siano dei modi, ognuno ha il suo per poter supportare, per poter aiutare nel momento in cui ci fosse bisogno di aiutare. Non certo non guardando dei video in cui ci fanno stare bene e che ci divertono un attimino. Chiusa parentesi, quindi come si dice sempre mi hanno insegnato questa frase, il bene non si racconta, ognuno lo fa nella sua casa per quello che riguarda la sua persona, nel modo in cui crede e sia meglio possibile. Il resto lo condividiamo, condividiamo un video di bellezza, condividiamo un video di filati, condividiamo un video di apro il sacchetto della spesa e vedo cosa ho comprato. Se a qualcuno interessa, se in quel momento lì lo fa divertire, se in quel momento lì lo fa star bene, stiamo facendo una cosa carina, divertente e non stiamo facendo male a nessuno. Chiudo. Finita. Ritorniamo a noi. Bentornati sul mio canale Disordine Creativo. Sono contentissima perché il video dell'altra volta, non pensavo davvero, ha avuto tantissimo successo, non successo, ha avuto molto riscontro. Tantissime mie amiche, ma amiche che abitano vicino a me, le mie colleghe, amiche al quale sono legata da tantissimi anni, vera amica, che mi hanno chiesto informazioni sulla skincare interessate, ma consigliaci siti, ma dammi un'idea per cosa posso usare. Allora, dammi un'idea su cosa posso usare, non lo so, nel senso che ognuno deve conoscere la sua pelle, ognuno deve conoscere che reazione ha la sua pelle con determinati ingredienti, cosmetici. Però vabbè, ci siamo divertite e mi sono resa conto che tantissime di noi non avevano mai preso in considerazione questa cura della pelle, questa nuova, tra virgolette, moda che poi non è una moda, ma è fondamentalmente un prendersi cura della propria pelle e soprattutto e tanto per me è un prendersi cura di se stessi e di regalarsi un momento così di coccola e di divertimento. Vi dirò anche che Lucia si è un po' infervorata su questa cosa, quindi mi ha chiesto alcuni prodotti, ovviamente non li do i miei perché la mia è una pelle matura da donna a cinquantenne, la sua è una pelle fragilissima e molto sensibile da diciottenne, quindi sono andata a comprargli due o tre prodotti da sefra, poi abbiamo comprato delle maschere la domenica pomeriggio, ci facciamo le maschere insieme e ci divertiamo e penso che sia un modo diverso così per venire anche a contatto con le nostre figlie o i nostri figli perché ci sono anche tantissimi ragazzi che si prendono cura della propria pelle e fanno veramente molto bene e quindi nulla può essere veramente un momento divertente. Spero che non venga più un video lunghissimo come quello dell'altra volta perché c'è sempre la mia amica Franci che mi riprende e dice che insomma questi video sono troppo lunghi ma io non sono capace di fare video corti, non sono capace di fare gli short come cavolo si chiamano su Instagram o su altre cose, sono troppo vecchia, questo per me è il metodo migliore quindi Franci guardatelo in due o tre puntate oppure mentre stai facendo i mestieri pulisci il bagno ascolti la tua amica Eli che ti tiene compagnia. Bene, l'altra volta, adesso però veramente vando alle ciance perché se no continuiamo a parlare per niente, l'altra volta avevo fatto vedere tre step della detersione, della mamma mia, della skin care coreana. Quello che vi faccio vedere è la skin care che faccio io e per il momento con una linea, la prima linea di skin care che ho provato e con il quale mi sono trovata veramente molto bene e sto parlando di Iepoda che era stata consigliata da Giulia Cova in uno dei suoi video. Quindi questa è la skin care che io ho provato, è la prima, magari non è la migliore, magari è la più buona di tutte, sono intenzionata a provarne delle altre, ho già inserito alcuni step successivi e ho già dovuto sostituire per esempio un prodotto perché l'avevo finito, quindi è tutta una sperimentazione, è tutto un provare, è tutto un divertimento e ci fa star bene. Il primo step era, come vi dicevo, quello che uso io, la detersione oleosa, quindi ci si strucca con il burro, si sciacqua e poi si fa il secondo step che è la detersione schiumosa a base di acqua che finisce di ripulire quello che è rimasto sul viso del primo step, anche se veramente ne rimane proprio pochissimo, cioè questo strucca benissimo, io tra l'altro non mi strucco neanche con l'acqua micellare prima agli occhi, io non faccio prima occhi e bocca e poi tutto il resto, io faccio tutto in un passaggio, se riesco poi ve lo farò vedere, ma non so come fare a registrare in bagno, va bene, sperimenteremo. E quindi primo passaggio, detersione oleosa, secondo passaggio, detersione accusa, poi se non volete o non è il momento di fare la maschera, loro hanno questa The Mist Eve che secondo me è buonissima, è un misto tra un tonico, un essence e praticamente dopo la detersione accusa, quando noi tamponiamo il viso con una lavetta, dobbiamo ripristinare il pH della pelle che a contatto con l'acqua ovviamente si acidifica, sto dicendo una stupidata, e quindi lo dobbiamo riportare a un pH normale. Questa purtroppo l'ho finita perché l'ho usata tantissimo, l'ho usata sia la mattina che alla sera, o quando avevo le mie scalmane, questa rinfrescante, c'è sulla faccia, fantastico. E aspettate che vi dico a cosa, di cosa è, allora, loro lo definiscono un prodotto poliedrico e si fa appunto al quarto step se usate la maschera. Io la maschera purificante la faccio una volta alla settimana, poi ne faccio una idratante. Quindi dopo questa usate sulla faccia, dopo esservi lavati, usate questa. Oppure esattamente la portate al terzo step, dopo la detersione schiumosa, per idratare, rivitalizzare e, come si dice, anche rilassare. Perché, diciamo, come ingredienti ha la lavanda, l'aloe vera, il tè verde, il ginseng, foglie di amamelide e bambù. Sono tutti ingredienti naturali. Ha anche l'acido ialuronico, che ci aiuta a reidratare, sapete che è buonissimo, ci aiuta a reidratare la pelle. E con la lavanda ha un profumo molto rilassante, poi la si tampona, cioè voi la spruzzate, la si tampona sul viso e nulla. E nulla, poi, generalmente io alla sera lascio sempre passare uno o due minuti tra un passaggio e l'altro, perché ho tempo, la mattina non ho tempo e quindi ci sbatto su tutto e è finita la storia. Sarò stata incasinata, fino adesso non lo so, io ho sempre tante cose da raccontarvi, poi quando guardo il video sono sempre agitate, dico, ho detto un sacco di cose e non si è capito niente, ma vabbè, la Eli, lei esce. E nulla, quindi questa secondo me è una bomba, io l'ho già finita e l'ho sostituita con per il momento un'acqua idratante della Venn che uso da tanto e che mi piace. Perché non voglio aprire troppi prodotti insieme, altrimenti poi li dovrei finire tutti e non è che ho una vita sociale che mi trucco 50 volte al giorno e mi strucco 50 volte al giorno. Però secondo me questi produttini, adesso che arriva la primavera-estate e che ci sarà più caldo, speriamo, ne farò sicuramente un ottimo uso, quindi questa sicuramente la ricomprerò. Poi abbiamo detto che questo può essere il terzo o il quarto step, ma poi abbiamo i seri. Io non ho mai usato seri sulla faccia in vitamina A. Veramente, mai, 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 mai. Non sapevo quasi neanche che esistessero. E quindi quando ho scoperto questi tre seri, boom! Cioè, la mia faccia, la mia pelle, aveva veramente voglia di provare questi prodottini e ne ha trovato tantissimo giovamento. Non spaventatevi, perché adesso io vi ho anche preparato uno schermino, sono stata brava, è con skin care di urna base, skin care di urna completa, skin care serale base, skin care serale completa. Con la E li fa così, perché questa è quella che faccio io. Che va bene, è più o meno simile alle altre, però questi li ho preparati per voi e poi spero di riuscire a farli scorrere nel video o all'inizio alla fine. In qualche maniera faremo. E nulla, cosa vi stavo dicendo? Mi perdo sempre via, mannaggia la pipetta. E allora, vi stavo dicendo che ho preso questi tre, questi tre seri, che non avendoli mai usati, per me, sono stati una meraviglia sulla faccia. Allora, io uso questo, che è The Purify Hero, che uso principalmente alla sera. Le sue caratteristiche sono astringente, esfoliante e migliora la rigenerazione cellulare. Astringente, perché c'è l'estratto della corteccia di salice, che è un'alternativa naturale all'acido salicilico, ed è un potente BHA. I professionisti, non io, sapranno che i BHA sono i beta-idrossi acidi. E sono degli acidi naturali, che hanno delle proprietà, in questo caso, astringente e sfogliante, e sono quelli più indicati per chi ha la pelle grassa, caneica, mista, con qualche imperfezione. Penso di essermi documentata bene. Quindi qui, in questo fantastico, fantastico olio, che è un siero densissimo, c'è estratto di corteccia di salice, aloe vera, acido ialuronico e glicerina, che è un ottimo umettante, che aiuta a rimpolpare la pelle. L'acido ialuronico, lo sappiamo, è responsabile, appunto, dell'idratazione della nostra pelle. L'aloe vera è rinfrescante, ha delle proprietà idratanti. E l'estratto di corteccia, come vi ho detto prima, è il BHA, che è il, diciamo, il principale ingrediente di questo siero. Adesso ve lo faccio vedere, perché, allora, è l'unico in cui ho avuto un po' di difficoltà, perché è veramente densissimo, eh, guardate, faccio vedere, è molto, molto denso. Ma, quando voi, allora, io non abuso mai dei sieri, perché, appunto, non avendoli mai provati sulla pelle, non so bene, però io vi faccio vedere, io ne metto tre gocce, non di più, quindi questo mi durerà una vita. Guardate com'è denso, vedete? Proprio non cola neanche. Ma, non so, faccio come quelle brave. Questa luce qua che vedete sono baciata dal sole oggi. Vedete? Si vede bene, cioè, questo è molto, molto ricco, quindi io lo vado proprio a massaggiare bene. non appiccica, assolutamente, idrata, cioè, la pelle rimane molto morbida, molto... e anche questo io lo lascio agire per un minuto, due minuti, magari alla sera, che ne so, me lo metto, me lo spalmo, poi vado a cambiarmi, mi metto il pigiama, poi ritorno. Non è che sono lì a aspettare, mi guardo allo specchio e dico, dai, che passa il tempo, cioè, faccio passare il tempo di quando metto tutti i prodotti, che ne so, andando a chiudere le finestre della camera, ritiro una cosa sul terrazzo, ecco tutte queste robe qua. E nulla. E questo è lo step numero 5. Lo abbiamo quasi finito, eh? Lo step numero 6. Ah, ecco, no, vedete che confusa che sono. Alterno il The Purify Hero, che uso solo alla sera, perché secondo me è molto più ricco, al The Repair Hero, Hero, scusatemi, madonna mia, se mi sentono... The Repair Hero, che uso invece alla mattina, ed ha una consistenza molto più leggera, e questo, ecco qua, è un siero proprio probiotico con niacinamide. Sapete che la niacinamide è un ingrediente buonissimo, che fa benissimo alla nostra pelle. Quelle caratteristiche di questo siero sono riparatore, idratante e anti-invecchiamento. La niacinamide, io la ho, lo sono venuto a conoscenza quando, appunto, preparo le mie pozioni magiche. La vitamina B3 è molto, molto versatile, può essere usata per tante problematiche della pelle, affina i pori, leviga le rughe, migliora il tono della pelle e... niente, quindi è veramente, veramente buonissima. E poi abbiamo anche l'acido ialuronico, che l'abbiamo già detto, il bisabobolo, che ho sempre avuto difficoltà a pronunciare questa cosa, che è l'estratto della camomilla, è un ingrediente potentissimo, è veramente buonissimo e io anche nelle mie preparazioni lo uso, lo uso spesso. Ed è molto buono per la pelle irritata e sensibile, lenitivo, antinfiammatorio e ha tante buonissime altre proprietà. Poi c'è l'aloe vera e nulla. Adesso questo ve lo faccio vedere, e anche questo. Vedete, questo è leggermente più. Scende un po' di più, ma è sempre comunque molto sostenuto. Questo regala anche quasi una freschezza sulla pelle. Ecco, io i sieri me li sono messi anche sul collo, sul deconté, e ragazzi, ho visto un cambiamento. Ecco, questo mi avete in mente quando voi sentite il culetto di un bambino. Ecco. Lascia la pelle liscia. Buonissima, levicata. Va bene. Sarà un video del cacchio, perché vado da una parte a quell'altra, ma ragazzi, non sono esperta. Chi mi ama mi segue, chi non mi ama chiuderò il canale. Cosa mi devo dire? Va bene. E nulla. Allora, sono obbligata a mettere i sieri? No. È consigliabile usare i sieri? Sì, per me sì. Non avendoli mai provati, per me sì. Possiamo anche, non vogliamo fare uno step in più, possiamo anche mescolarli alla nostra crema che utilizziamo alla mattina o alla sera, e quindi non è un problema. Però è così piacevole farsi un massaggio, è così piacevole spalmarselo, aspettare così. Poi sentite subito veramente che la pelle cambia. E poi a lungo andare, io ormai sono quasi un mese che sto usando questa skin care, mi rendo conto che effettivamente la mia pelle è molto, molto, molto migliorata. si è rassodata, si è levigata. Me ne sono accorta anche perché alcuni prodotti, prima, quando li mettevo, non mi facevano nessun effetto. Adesso, essendo chiaramente più pulita, con probabilmente più, con la pelle più nuova, cioè le cellule morte se ne vanno, poi quando fai l'esfoliazione e tutto il resto, mi rendo conto che effettivamente è più reattiva. Quando metto la maschera con l'esfoliazione non meccanica, ma chimica, con l'esfoliazione chimica, sento subito che fa effetto, non che mi bruci la faccia che va a fuoco la faccia, però sento che effettivamente gli ingredienti stanno andando in profondità. Prima, le prime volte che lo facevo non lo sentivo, perché probabilmente la pelle aveva bisogno di rigenerarsi e tutto quanto. Ultimo step, e poi vi lascio, che così oggi facciamo una cosa veloce e la Franci è contenta, io ho comprato soltanto la crema The Make My Day Cream. C'è anche la versione per la sera, che è una maschera molto più ricca, molto più corposa, ma ascoltando i consigli di Giulia Cova, di cui io mi fido tantissimo, diceva che chi ha la pelle mista grassa, già questa è molto molto corposa. e allora non ho comprato la crema notte, ma questa la uso esclusivamente alla sera, per il giorno, poi vi farò vedere nel prossimo video che cosa uso. Allora, questa crema, è una crema, qui la chiamano crema da giorni, io la chiamo crema da notte. È idratante, anti-invecchiamento, protegge, all'interno abbiamo la cica, che è uno degli ingredienti cosmetici naturali più popolari in Corea, è molto utilizzato, ed è conosciuto come erba della tigre, perché le tigri, quando hanno delle ferite nei combattimenti, poi si rotolano, si rotolano loro nell'erba, dove c'è la cica, perché probabilmente ha davvero un potere molto cicatrizzante, molto disinfiammante, per le ferite che hanno sulla pelle, e quindi direi che è perfetta per le pelli miste grassi, ma anche per tutte le pelle, magari per le pelle più disidratate, più sensibili, però secondo me va proprio messa alla sera, perché è veramente molto corposa, almeno sulla mia pelle è molto molto corposa. Poi abbiamo l'olio di jojoba, il burro di caretè, e l'olio di camiglia, che anche questo è un olio che viene spesso utilizzato nei prodotti coreani, e dà una grande spinta ancora di più all'idratazione, e con questo abbiamo finito tutti gli step, ma non è finita qui, non è finita qui, perché ci sono degli step aglintivi, che però non vi voglio raccontare oggi, perché se no davvero diventa lunghissima, ve la racconterò la prossima volta, e con il quale è veramente divertente approcciarsi, e quindi noi qui abbiamo visto step 1, detersione oleosa, step 2, detersione acquosa, step 3, la maschera una volta alla settimana, step 4, la mist, che è diciamo un mix tra il tonico e la essence, step 5, ah no 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 no, mi sono dimenticato di una cosa, adesso lo aggiungiamo, step 5, i sieri alternati, o almeno io li alterno, step 6, la crema, questa solo alla sera, e mi sono dimenticata del potentissimo dei Glow Hero, che è praticamente un siero ibrido, così l'hanno chiamato, se non vorrei dire di una stupidata, The Glow Hero, sì, giusto, 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 allora, il The Glow Hero è sempre un siero, questa volta è veramente molto molto liquido, è lenitivo, nutriente, slow hedging lo chiamano, perché ha tantissimi ingredienti che aiutano ad appianare le righe, le rughe sottili, ah no, dice anche le righe, quindi le righe e le rughe, l'ingrediente chiave di questo siero è il Bakukyol, che io non conoscevo, ne ho sentito parlare tantissimo ultimamente, che cos'è il Bakukyol, è un ingrediente naturale perché aiuta a rallentare l'invecchiamento, è ottenuto, sto leggendo qui, è dai semi o dalle foglie della pianta Babki, Babki è scritto, che non so che cosa sia, il Bakukyol è diventato molto famoso, come alternativa vegetale al retinolo, è efficace contro le rughe, la pelle irregolare, e non dà nessun tipo di irritazione alla pelle, poi all'interno di questo siero abbiamo l'olio di semi di macadamia, lo squalene, squalane, se ciao, lo squalo, lo squalane, che è un potente idratante con un effetto immediato, ed è molto tollerato anche dalle pelli sensibili, l'olio di jojoba, sempre il visabobolo, e l'aloe vera, spero di avervi detto le cose giuste, se non ve le ho dette giuste, vi lascio anche il link di tutti i prodotti che io ho usato, che dirvi ancora, nulla, spero di non essere stata troppo confusa, ma lo sono stata sicuramente, è che ci sono davvero tante cose da dirvi, vorrei essere professionale, ma non lo sono, e nulla, cercherò di essere più chiara con questi, questi sì dai, questi li ho fatti bene, che così non andate in confusione, e con queste slide che vi passeranno, e così riuscite magari a capire, perché una mia amica mi dice, ma no, io faccio solo lo step 1 e 2, no, ma io ne faccio ci, no, ma io, allora, ognuno è libero di scegliere, non è una regola, non è che uno è obbligato, e poi si deve frustare, perché non è riuscito a fare un passaggio, Allora, io a tutti questi, a tutti questi step, alla mattina faccio questa cosa, alla mattina faccio, la detersione schiumosa, o l'acqua micellare, l'acqua micellare vi ho detto che non la usavo per struccarmi, la uso, adesso ne sto finendo una che non mi piace, ma almeno la finisco, non mi piace buttare la cosa, allora, io generalmente uso detersione oleosa, o un'acqua micellare che passo sul viso, per togliere proprio tutti i residui della notte, e poi risciacquo con l'acqua, poi uso la mist, che sarebbe questa, o il tonico, la essence, il siero, il contorno occhi, di cui non abbiamo parlato, la lozione, o la crema giorno, e l'SPF, che ho imparato a mettere sempre, e che prima non conoscevo, ma anche di questo ne parleremo, c'è la skincare invece base, che è detersione schiumosa, o acqua micellare, misto tonico, crema da giorno, e SPF, sono quattro passaggi, quindi secondo me, ce la possiamo fare benissimo tutti, o forse li facciamo anche già, e non ci rendiamo conto, la skincare serale, quella che faccio io completa, è detersione oleosa, detersione schiumosa, esfoliante, una o due volte alla settimana, e ne parleremo la prossima volta, maschera peel off, una o due volte alla settimana, e ne parleremo la prossima volta, che sarebbe comunque, questa è la maschera, una volta la faccio idratante, e una volta la faccio purificante, sempre, ah, se volete, giusto, se volete, poi potete aggiungere anche i patch occhi, io li utilizzo, e mi sto trovando bene, poi ve li farò vedere, poi abbiamo, al quarto passaggio, la mist, o il tonico, la maschera monomuso, che mi piace un botto, e mi diverto un sacco a farla, una o due volte alla settimana, la essence, il siero, il contorno occhi, la crema notte, e la maschera notte, al bisogno, questa è veramente, un po' più complessa, ma secondo me, si può fare, si riesce a fare, la skin care serale base, che se uno non ha tempo, se uno è arrivato tardi, perché è andato a fare bisboccia, e quindi si addormenta già in piedi, non riesce a struccarsi, a fare tutte le cose, detersione le usa, detersione schiumosa, sempre, 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 ricordatevelo, mist, o tonico, siero, contorno occhi, crema notte, se proprio uno è giovane, e non gli serve il contorno occhi, per quella volta lì lo può anche saltare, quindi come vedete, è molto versatile, si può cambiare, uno può scegliere, in base a quello che gli piace, alle proprie esigenze, al proprio tempo, però io vi consiglio comunque, di dedicarvi del tempo, di, perché io l'ho scoperto, ed è veramente, veramente molto bello, è proprio una coccola, che ci facciamo, ve l'ho detto forse anche l'altra volta, io tante volte alla mattina mi trucco, perché così almeno la sera, posso fare la skin care, vabbè, la farei lo stesso, però, è un motivo in più per farlo, nulla, spero, come vi dicevo prima, di non essere stata troppo confusa, ci sono tantissime, bravissime amiche esperte, che vi ho già segnalato la volta, la volta scorsa, non mi ricordo, se vi ho, inserito, Sara Cosmesi, ma forse l'ho scoperta dopo, andatela a seguire, perché vabbè, a me è la cosa che piace tantissimo, tutti questi prodotti che usano, e mi chiedo sempre, ma come faranno a finirli tutti, vabbè, loro li provano, li testano, poi magari li regalano, però davvero, io sono veramente incuriosita, e mi piacerebbe riuscire anche a capire, come fanno usare così tante cose, tutte insieme, io adesso, ho comprato un po' di prodottini, che pian piano vi farò vedere, anche perché pian piano, quelli che sto utilizzando, finiscono, e quindi, e poi vabbè, per provarli, secondo voi, perché hanno di quei pack, che sono meravigliosi, a livello grafico, c'è dietro uno studio, dietro a ogni confezione di cosmesi, che è spettacolare, veramente spettacolare, mi piace tantissimo, anche questa, anche questo immaginare, a come, a come, così, studiano il pack, che deve essere accattivante, e, insomma, questa cosa è bellissima, va bene, belle gioie, tutte, io vi saluto, vi auguro, un buon weekend, spero di montare oggi, questo, questo video, vi videro, video, nella mia confusa, disordinata, creatività, io vi saluto, vi invito, se vi piace, iscrivervi al canale, se non vi piace, fa niente, e, a mettere un pollice in su, come fanno quelle brave, ogni tanto lo dico, una volta all'anno lo dico, se vi è piaciuto, mettete un pollice in su, iscrivetevi al canale, così ricevete tutti gli aggiornamenti, non sono una fashion blogger, di quelle che pubblica tutti i giorni, prendetemi, diciamo che sono una, una influencer di mezza età, a basso costo, e nulla, vi saluto, vi abbraccio, spero che stiate tutti bene, e ci vediamo alla prossima puntata, dove parleremo, delle, dei punti aggiuntivi della skin care, quindi, esfoliazione, maschera, contornocchi, SPF, se avete qualcosa da chiedermi, chiedetemelo pure, spero di essere in grado di rispondervi, e ci vediamo, la prossima settimana, facciamo un appuntamento settimanale, come dal parrucchiere, io sono andata al parrucchiere, vi piaccio, ho cambiato colore, ho fatto i colpi di sole freddissimi, e voglio farli sempre più bianchi, c'entra niente, ma poi abbiamo anche da parlare, delle creme per il corpo, delle sfoglianti per il corpo, sto scoprendo un mondo, a 52 anni, che, manco sapevo tutte queste cose, quindi, se avete voglia di camminare, di divertirvi, camminare, di divertirvi, di provare con me, fatemelo sapere, io davvero vi saluto, vi auguro una buona giornata, vi mando tanti baci, e ci vediamo, alla prossima puntata, ciao!